è il momento di ascoltare una giovanissima si tratta di Barbara Tola ci fa ascoltare Drown e so going deeper and deeper and I can't take one more moment of this silence loneliness is on to me and the wind of the waves getting hard to hold up I can't see so as I close my eyes break my breath and let it burn out I'm not okay and it's not alright food to drink to lay you'll bring me up again who will fix me now and tell me when I'm down save me from myself don't let me drown who will make me fight to save when I'm alive save me from myself don't let me drown don't let me drown don't let me drown I can't see so I'm alive who's a broken stone gotta hold my soul going deeper and deeper and I can't take one more moment of this silence and loneliness is on to me and the weight of the waves getting hard to hold up all these ways I close my eyes hold my breath and let it burn in me I'm not okay and it's not alright put your drink to lay put your drink to lay and bring me up again who will fix me now and tell me when I'm down save me from myself let me drown you will make me find you will make me find save me from myself save me from myself so let me drown oh 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 Wow Because I know that I can't do this on my own Wow Because I know that I can't do this on my own Yeah Wow No Who will face me now? 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 Grazie. Grazie. Questa ragazza ha già iniziato come diversi anni fa, vi avevo detto, a fare delle cose anche fuori da scuola, tanti provini anche con tanti sacrifici e questa sera dobbiamo imparare a chiamarla con il nome d'arte, lo variamo, lo facciamo sapere a tutti, vero Barbara? Il suo nome è Sibyl, un applauso. Grazie. Che lei ha scelto per calcare appunto i palcoscenici, ovunque siano, Sibyl ricordate in arte, Barbara Tocola per tutti noi. Grazie a tutti. Salutiamo anche un altro ex che abbiamo visto in video, dove sei Antonello? Eccolo, dove sei? Non ti vedo. Stavi a piange? Un altro ex allievo, anche lui compone, musicista, sta in sala di registrazione, almeno io lo seguo attraverso Facebook, tantissime ore per produrre il suo album, quindi Santa Maria spero che porti tantissima fortuna a tutti questi ragazzi. Grazie. Grazie.